Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi vi do lezione dedicata all'inferno di Dante. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi chiamo Diario di Charlotte. Innanzitutto dobbiamo dire che questo video è un video introduttivo all'inferno. In questo video faremo proprio un percorso, un viaggio che ci porterà nei canti e anche a seguire i passi di Dante personaggio. Incontreremo i personaggi principali e vi servirà per avere uno sguardo generico, generale a tutto il viaggio di Dante all'inferno. È mio obiettivo in futuro però andare ad analizzare inizialmente i canti più importanti dell'inferno e poi chissà, magari anche tutta la commedia. Vi ricordo che ho dedicato un video di introduzione alla commedia che vi lascio qui. Per quanto riguarda la commedia di Dante sappiamo che abbiamo 100 canti e 3 cantiche. La prima cantica è la cantica dedicata all'inferno. Questa cantica è composta da 34 canti, precisamente 33 canti più 1. In questa cantica abbiamo il proemio della commedia intera, che è il primo canto, e il proemio dell'inferno, che è il secondo canto. La guida in questo viaggio infernale è il poeta Virgilio. Questo incipit è celeberrimo, sono i primi tre versi della commedia. Dante ci dà già delle informazioni importanti. Lui si trova nel mezzo del cammino della vita umana, diciamo verso i 35 anni d'età, e si è smarrito, ha perso la retta via. Naturalmente noi la commedia la possiamo leggere in chiave allegorica, e quindi questa perdita in una selva oscura è la perdita di Dante, personaggio che ha perso la retta via, la strada giusta. Infatti incontrerà in questo suo viaggio proprio tre fiere che gli ostacoleranno il cammino. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto sapete che noi festeggiamo il Dante D, quindi un giorno dedicato a Dante. Perché? Perché la notte tra il 7 aprile e l'8 aprile, oppure tra il 24 marzo e il 25 marzo, ancora ci sono dei dibattiti da parte dei critici, ma l'anno è il 1300, Dante si perde nella selva oscura. L'anno 1300 è un anno molto importante, perché è l'anno del Giubileo. Che cos'è il Giubileo? Il Giubileo è l'indulgenza plenaria voluta da Papa Bonifacio VIII. Come vi ho già detto nello scorso video introduttivo alla commedia, il viaggio di Dante è un viaggio certo eterno, ma è un viaggio che ha una durata di sette giorni. In particolare, secondo il critico Natalino Sapegno, Dante avrebbe iniziato la sua discesa agli inferi l'8 aprile, primo giorno della settimana santa, e avrebbe concluso il suo viaggio il 15 aprile 1300. Vediamo qui la cartina che ci accompagnerà in questo viaggio infernale. Siamo dunque persi nella selva oscura. Ma dove si trova questa selva? Naturalmente la selva oscura è un luogo immaginario, simbolico, però alcuni commentatori hanno anche cercato di trovarle una collocazione geografica, vicino a Firenze oppure vicino a Gerusalemme. Tuttavia, non sappiamo ancora dove si trovi con certezza. Ad un tratto, Dante, che si è perso in questa selva oscura, si ritrova davanti ai piedi del Colle della Grazia. Dalla cui vetta vede proprio spuntare i racci del sole. Il poeta inizia quindi a salire la china del Colle, però è molto incerto e affaticato. Tre fiere, tre bestie gli ostacolano il cammino e sono, come vedete qui dall'immagine, la lonza, il leone e la lupa. Le tre fiere, le tre bestie, rappresentano tre peccati di cui probabilmente si è macchiato Dante. La lonza, che ha il pelo maculato, lo spinge più volte a tornare indietro ed è l'allegoria della lussuria. Il leone invece gli viene incontro e mostra una fame rabbiosa, addirittura sembra far tremare l'aria e rappresenta la superbia. Infine, la lupa famelica, carca di tante brame, quindi carca di ogni bramosia, rappresenta l'avarizia. Fermato dunque dalle fiere, Dante si dirige verso la selva oscura e viene in questo momento soccorso da Virgilio, che lo guiderà nel viaggio dell'oltretomba. Ma chi è Virgilio? Nello scorso video abbiamo già detto che Virgilio rappresenta l'allegoria della ragione ed è la prima delle tre guide che accompagneranno Dante nel suo viaggio. Virgilio è il più grande poeta dell'antica Roma ed è l'autore delle Neide. Si trova nel limbo, perché nel limbo risiedono le anime dei non battezzati e le anime anche dei virtuosi nati prima di Cristo. Virgilio è stato mandato da Beatrice. Infatti, vengono qui menzionate le tre donne benedette. La Vergine Maria, Santa Lucia e Beatrice, che ha raccomandato Dante a Virgilio. Virgilio viene riconosciuto da Dante come il suo maestro e il poeta latino gli dice che l'umanità sarà salvata da un veltro. Il veltro probabilmente è un animale da caccia, però è allegoria di qualcos'altro che caccerà dall'Italia la cupidigia. Virgilio dunque accompagna Dante all'inferno che si presenta come un cono rovesciato e si è formato per scansare il contatto con Lucifero. L'angelo, portatore di luce, da qui il nome Lucifero, è stato scaraventato nel centro della terra. Come vedete qui, l'inferno, questo cono rovesciato, è suddiviso in nove cerchi e un vestibolo. I dannati sono ripartiti in tre grandi sezioni e più andiamo verso il basso, più i peccati sono gravi. Abbiamo infatti le tre sezioni che riguardano tre tipologie di peccati. L'incontinenza, quindi non saper contenere per esempio le passioni, la violenza e la malizia, in particolare la frode. Come vi avevo già anticipato, all'inferno e anche al purgatorio vige la regola del contrappasso. Quindi le anime dannate subiscono un tormento ideato proprio in base al peccato che hanno compiuto. Il contrappasso può essere per somiglianza oppure per contrasto. Pensiamo per esempio ai lussuriosi Paolo e Francesca, quinto canto dell'inferno. Come in vita sono stati travolti dalle passioni, così sono travolti dalla bufera. Per contrasto invece, come Gnignavi, cioè coloro che non prendono posizione, in vita non prendono posizione, quindi rimangono fissi, immobili, così all'inferno sono costretti a inseguire una banderuola mentre sono punti dai mosconi. Dante dunque si ritrova davanti alla porta dell'inferno, sulla quale legge per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. La perduta gente sono i peccatori. Lasciate ogni speranza, voi chintrate. Ci troviamo quindi nel terzo canto dell'inferno. Nell'anti-inferno Dante incontra gli Gnignavi, come vi dicevo, uomini che in vita non si sono mai schierati, non hanno mai saputo prendere posizione. E come vi dicevo, la loro pena è una pena per contrasto. Vedete qui questa immagine, questi uomini, questa banderuola che loro devono inseguire, e vediamo tutte le punture, tutti i graffi, in quanto sono continuamente punti da mosconi e da insetti. Chi è però che conduce le anime all'inferno, dato che qui siamo nell'anti-inferno? Caronte, il traghettatore delle anime. E qui Dante riprende la tradizione in particolare virgiliana dell'Eneide. Caronte traghetta le anime dei dannati lungo il fiume Acheronte, uno dei fiumi infernali, ma si oppone al passaggio di Dante, perché Dante non è un'anima, non è morto. Virgilio però zittisce Caronte con una formula che riutilizzerà anche per altri custodi dell'inferno, ovvero Caron non ti cruciare, vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole, e più non dimandare. E Dante sviene. Il poeta viene sopraffatto dallo spavento per tre impressionanti fenomeni infernali, un terremoto, un vento improvviso, un lampo di luce vermiglia, e caddi come l'uomo cui sonno piglia. Si risveglierà nel limbo. Eccoci qui, abbiamo quindi attraversato il fiume infernale Acheronte e ci troviamo nel primo cerchio, il cerchio del limbo, che significa orlo. Il limbo, come dicevo, accoglie i bambini non battezzati, ma anche gli antichi virtuosi nati prima di Cristo. Gli spiriti meritevoli, detti anche spiriti magni, vivono in un castello, un luogo luminoso dove l'aria è quieta. Gli spiriti magni quindi hanno una condizione diversa rispetto alle altre anime, proprio per la fama di cui hanno goduto in vita. Troviamo tra gli spiriti magni Omero, che ha una spada, in quanto è rappresentato come il poeta sovrano, Orazio, l'autore delle satire, Ovidio, famoso per esempio per le sue metamorfosi e tanto altro, e Lucano, l'autore del Farsalia. Dal secondo al quinto cerchio, troviamo gli incontinenti. Abbiamo nel secondo cerchio i lussuriosi, che sono travolti dalla bufera, per l'appunto un contrappasso per somiglianza. Poi abbiamo nel terzo cerchio i golosi, che sono sferzati da pioggia e da neve fetide. Nel quarto cerchio troviamo gli avari e i prodighi, che devono spingere col petto un macigno. Nel quinto cerchio troviamo invece gli racondi e gli acidiosi, che sono immerse nelle acque dell'ostige, una palude stigia, quindi un altro dei fiumi infernali. Le altre due sezioni sono racchiuse nella città di Dite, che è sorvegliata dai diavoli. Nel quinto canto troviamo anche a custodie, per l'appunto, di questi cerchi, Minosse, che è visto nell'antichità come un giudice. E anche qui Dante recupera questa sua funzione. Minosse è anche il re di Creta, padre di Arianna, colei che era innamorato di Teseo, e che poi era stata piantata in Nasso, sull'isola di Nasso, per l'appunto. Minosse attorciglia la coda tante volte quanti sono i cerchi in cui devono risiedere i peccatori. Andiamo quindi nel secondo cerchio, il cerchio dei lussuriosi. Siamo sempre nel quinto canto dell'inferno, un canto che sicuramente leggerete a scuola. Dante è molto colpito dalle grida dei dannati che sono travolti dalla tempesta e dalla bufera. Le anime sono travolte come gli stornelli e si lamentano come le gru quando in cielo formano una lunga fila. Qui incontriamo due dannati celeberrimi, Paolo e Francesca. L'attenzione è di Dante colpita da queste due anime di innamorati, Francesca, Darimini e Paolo. Paolo era il cognato di Francesca. Lei però era sposata con, per l'appunto, il fratello di Paolo, Gianciotto Malatesta, il quale era uno storpio, un uomo molto brutto. Lei, leggendo un libro, si innamora perdutamente di Paolo e i due si scambiano un bacio. Gianciotto poi però li eliminerà entrambi. Dante, nonostante questi siano due peccatori, tacciati di lussuria, sarà molto indulgente anche con Francesca. Nelle sue parole si vede comunque sia una tolleranza nei confronti di queste due anime di innamorati. Per l'emozione poi Dante sverrà. Gli svenimenti di Dante sono frequenti nella commedia. E anche qui abbiamo un verso famosissimo E caddi come corpo morto, cade. A proposito di Paolo e Francesca, sicuramente dedicheremo un video approfondito, che è una vicenda molto interessante, è un canto veramente estremamente bello da leggere ed è sicuramente oggetto di studio e di analisi approfondita anche a scuola. Quindi preparerò sicuramente un video. Passiamo ora al terzo cerchio, il cerchio dei golosi. Siamo nel sesto canto dell'inferno. Premessa, il canto sesto è il canto politico di tutte le cantiche. Quindi sia dell'inferno, del purgatorio che del paradiso. Dante si riprende da questo svenimento e si risveglia nel terzo cerchio. Qui trova i golosi, che come vi dicevo subiscono una pioggia continua che trasforma questo terreno su cui si trovano in un pantano puzzolente. In questo canto incontriamo un altro mostro infernale, Cerbero, che caninamente latra. Cerbero è un cane con tre teste, coperto di serpie e con una coda di serpente nella mitologia. Dante però lo trasforma, il suo Cerbero ha gli occhi iniettati di sangue, quindi di rosso, una barba unta e nera, un ventre largo e ha delle zampe unghiate con cui squarta proprio i golosi. Dante passa sui corpi inconsistenti delle anime gettate a terra, ma un'anima si alza e si rivolge a lui. È Ciacco, che non ha nome, non ha una storia, non ha famiglia. Però ci parla di Firenze. A Firenze, città piena di invidia, Ciacco è molto conosciuto per il suo peccato di gola. Dante, quando riconosce quindi quest'anima fiorentina, le pone tre domande su Firenze e sui fiorentini e chiede a che punto arriveranno le discordie interne della città con le lotte tra guelfi neri e guelfi bianchi a proposito della vita di Dante, ve ne ho parlato in questo video che vi lascio qui. Ci sono ancora cittadini non colpevoli? Perché ci sono queste lotte civili? Ciacco risponde in modo enigmatico, in modo oscuro alle domande poste da Dante. I conflitti tra guelfi neri e guelfi bianchi continueranno e avranno a meglio i neri che conserveranno il potere e cacceranno i bianchi. Superbia, invidia e avarizia saranno proprio le cintille che avranno acceso gli scontri politici. Dante scende poi nel quarto cerchio, il cerchio degli avari e dei prodighi. Abbiamo qui Pluto, Pluto il dio della ricchezza nella mitologia che Dante però trasforma in un demone. Troviamo dunque Papessatan, Papessatan, Aleppe, questa sorta di litania. Infatti Pluto è il custode del quarto cerchio, degli avari e dei prodighi. Siamo nel settimo canto dell'inferno e vediamo gli avari e i prodighi condannati a muoversi da una parte all'altra del cerchio. A sinistra gli avari, a destra i prodighi. Trasportano dei massi e quando si incontrano gridano Perché tieni stretto il denaro? Perché sperperi? Quindi questa è una condizione chiaramente inversa, cioè l'avarizia e la prodigalità. L'avaro è colui che appunto tiene stretto il denaro mentre il prodigo è colui che non sa gestire il denaro quindi sperpera. Dante continua il suo viaggio e arriva al quinto cerchio, il cerchio degli racondi e degli accidiosi. Come vedete dalla cartina abbiamo qui la palude Stigia. Secondo il mito lo Stigia si estende in nove grandi meandri che forma una palude. Infatti lo Stigia fa parte dei fiumi infernali della commedia che sono la Cheronte che abbiamo già incontrato il fiume del dolore il Flegetonte il fiume di fuoco che incontreremo e poi il Cocito il fiume dei pianti. Gli racondi sono immersi nella palude Stigia e si percuotono e mordono le labbra con rabbia. Gli accidiosi invece sono sommersi proprio nella palude ma sospirano e fanno pululare l'acqua in superficie. Dato che qui abbiamo una palude chiaramente dobbiamo avere un traghettatore anche qui il traghettatore Fleggias. Fleggias è il traghettatore delle anime che trasporta Dante e Virgilio a Dite la città di Dite circondata dai diavoli. Secondo la tradizione Fleggias che è un altro personaggio della mitologia potrebbe essere colui che ha incendiato il tempio di Delphi. Nell'ottavo canto dell'inferno troviamo a Filippo Argenti infatti vi dovrebbe far pensare a una canzone di Caparezza che ha veramente fotografato bene questo canto e questo personaggio così interessante mentre i poeti infatti percorrono la palude una morta gorga un'anima si avvicina a Dante è Filippo Argenti che si presenta come un che piango un'anima espiante in realtà però è pieno di rabbia cerca di salire su un'imbarcazione ma Virgilio lo caccia e gli dice va via di qua va con gli altri cani quindi le altre anime dannate anche questo è un canto veramente molto bello da leggere Dante e Virgilio arrivano quindi alle mura della città di Dite siamo sempre nell'ottavo canto una città infuocata come l'inferno circondata da profondi fossati mura al cui ingresso ci sono diavoli e furie che piommano su Dante e lo invitano ad andarsene nel sesto cerchio troviamo gli eretici siamo tra il nono e il decimo canto dell'inferno Dante infatti riesce ad entrare a Dite grazie a un messo angelico si aggira tra le tombe scoperchiate e infiammate degli eretici e tra questi eretici trova per esempio Cavalcante dei Cavalcanti Farinata degli Uberti Federico II di Svevia Cavalcante dei Cavalcanti è il padre di Guido Cavalcanti Farinata è un ghibellino che è morto durante la battaglia di Montaperti e ferma Dante rimpiangendo Firenze inoltre Dante viene fermato da Cavalcante dei Cavalcanti che chiede notizie di Guido Cavalcanti a Dante e gli chiede come mai non sia con suo figlio Guido sarebbe morto pochi mesi dopo a Sarzana Farinata degli Uberti dice a Dante una profezia la profezia dell'esilio tra quattro anni anche lui capirà cosa significhi essere un esule e non poter tornare nella sua terra nel settimo cerchio troviamo i violenti e abbiamo tre gironi i violenti contro il prossimo sono nel primo girone i violenti contro se stessi nel secondo tra cui i suicidi che vengono trasformati in alberi nodosi e contorti e il terzo girone invece ospita i bestemmiatori violenti contro Dio quindi contro la natura gli omosessuali e contro l'arte gli usurai che violano la legge divina di ricavare un giusto compenso dal lavoro come vedete dalla cartina qui troviamo il flegetonte infatti i violenti contro il prossimo sono immersi in questo fiume infernale di sangue bollente a guardia del cerchio dei violenti c'è il minotauro che nel mito greco simboleggia proprio la parte istintiva e bestiale della mente umana i violenti contro il prossimo siamo quindi nel dodicesimo canto dell'inferno sono immersi più o meno a seconda della colpa nel flegetonte e sono assaettati da centauri infatti se tentano di uscire dal sangue più di quanto sia stabilito dalla pena vengono ricacciati dalle loro saette i violenti contro se stessi invece siamo nel tredicesimo canto sono custoditi dalle arpie nella selva dei suicidi come vedete qui dalle immagini troviamo questi alberi infatti sono trasformati in alberi che imprigionano le anime dei suicidi e le arpie nidificano tra queste piante tra i rami di queste piante e si cibano delle loro foglie facendogli soffrire Dante si meraviglia perché ode dei lamenti senza vedere nessuno Virgilio lo invita a troncare la frasca di un albero dopo aver eseguito l'ordine Dante viene investito da un urlo orribile perché mischiante dal ramoscello spezzato escono insieme lamenti e sangue Dante chiede scusa alla singolare creatura e la interroga sulla sua vicenda terrena tra i suicidi famoso è Pier delle Vigne collaboratore e amico di Federico II di Svevia a cui peraltro abbiamo dedicato una video lezione che vi lascio qui verrà accusato Pier delle Vigne di congiura fatto accecare e imprigionato a Pisa disperato si suiciderà uomini fumo e ora sei infatti sterpi ben dovrebbe essere la tua mampiupia se state fossimo anime di serpi nel terzo girone troviamo un sabbione infuocato e abbiamo diversi violenti i violenti contro Dio che sono supini gli usurai sono seduti raccolti e i sodomiti gli omosessuali che camminano senza sosta nel quattordicesimo canto troviamo anche Capaneo uno dei sette re di Tebe Capaneo ha osato sfidare Giove scalare la città di Tebe ed è stato fulminato proprio da Giove stesso ed è un bestemmiatore nel quindicesimo canto troviamo però un altro maestro di Dante Brunetto Latini che lui colloca tra i sodomiti in questa schiera di anime che lui incontra Dante incontra chierici e letterati importanti tra cui Brunetto Latini il notaio fiorentino autore del Tresor che lo ferma e lo riconosce la Dante lo ricorda come lo mio maestro però lo condanna all'inferno tra il settimo cerchio dei violenti e l'ottavo cerchio delle malebolge c'è una ripa scoscesa e quindi Dante per continuare il suo viaggio ha bisogno di un aiuto in questo caso a guardia delle malebolge c'è Gerione un mostro un mostro che ha la faccia di un uomo giusto il busto di serpente le zampe artigliate e una coda biforcuta e Gerione che volando porta Dante oltre il burrone quindi oltre la ripa scoscesa e lo porta nelle malebolge ci troviamo nel diciottesimo canto dell'inferno ai piedi di questo strapiom broccioso si apre quindi l'ottavo cerchio quello delle malebolge che comprende i consiglieri fraudolenti le malebolge per l'appunto sono formate da dieci sezioni dieci fosse concentriche dette per l'appunto bolge in queste bolge noi troviamo i ruffiani e i seduttori che vengono sferzati dai diavoli gli adulatori che vengono immersi nello sterco d'altra parte alle carri a sedere i papi simoniaci cacciati a capofitto dentro delle buche gli indovini che hanno il viso rivolto verso la schiena e verso il loro sedere i barattieri immersi nella pece bollente gli ipocriti che sono gravati da cappe di piombo dorato i ladri che si trasformano in serpenti i consiglieri di frode tra cui Ulisse e Diomede avvolti dalle fiamme i seminatori di scismi mutilati e sventrati da diavoli e i falsari che sono colpiti da malattie ripugnanti come ricordare però tutti questi fraudolenti con questa acronimo sa Sibyl cose fa che sta per seduttori adulatori simoniaci indovini barattieri ipocriti ladri consiglieri seminatori di discordi e falsari qui nel diciannovesimo canto incontriamo il papa simoniaco Niccolò III che scambia Dante per Bonifacio e gli dice sei tu già così diritto Bonifacio quindi è un modo anche questo per mostrare la disapprovazione di Dante nei confronti di Bonifacio VIII e Dante inveisce contro i papi simoniaci la cui avarizia ha reso la chiesa un'orrida bestia nel ventesimo canto dell'inferno nella quarta bolgia troviamo gli indovini per esempio Tiresia Manto sono condannati a guardare all'indietro e le loro lacrime baciano le loro natiche la quinta bolgia quella dei barattieri è custodita da diavoli neri e alati che sono detti malebranche per i loro artigli il capo delle malebranche è Malacoda sono proprio i diavoli a scortare i poeti ma non sono certo affidabili e continuano ad azzuffarsi cercano addirittura di mettere in difficoltà Dante e Virgilio d'altra parte sono diavoli e qui abbiamo la descrizione in un verso del peto che però potremmo dire poetica ed è anche una dimostrazione di quel plurilinguismo di cui abbiamo parlato ed è lì avea del cul fatto trombetta nel ventitresimo canto dopo aver incontrato i barattieri della quinta bolgia Dante incontra gli ipocriti che hanno l'aspetto di santi rovesciati e vede Caifa che è un dannato nudo crocifisso con tre pali che viene calpestato dagli ipocriti egli era capo del sinediro ebraico e aveva consigliato il martirio di Cristo tutti i ponti delle male bolge sono crollati allora Dante e Virgilio decidono di arrampicarsi arrivati alla settima bolgia incontrano i ladri che sono avvolti e tormentati dai serpenti tra i ladri troviamo Vanni Fucci siamo nel 24esimo canto egli era un ladro di Pistoia soprannominato il bestia e dice vita bestial mi piacque e non umana siccome a mulchi fui son Vanni Fucci bestia e Pistoia mi fu degna tana perché è importante questo canto perché Vanni Fucci fa una profezia a Dante gli dice che i guelfi bianchi avranno molte sventure dopo il suo esilio con la sconfitta di Pistoia l'ultima roccaforte dei bianchi e detto l'ho perché dolerti debbia conclude il dannato quindi l'ha detto per farlo rimanere ancora più male Vanni Fucci inoltre bestemmia e viene avvolto dalle serpi Dante lancia quindi un'invettiva contro Pistoia la terra natia di Vanni Fucci si avvicina allora nel 25esimo canto a Dante Virgilio Caco un centauro che ha sulla groppa bisce e anche un drago alato secondo il mito è stato proprio ucciso da Ercole Dante quindi è spettatore di una scena orribile i dannati che si trasformano in serpenti e viceversa in queste scene Dante attinge alle fonti classiche riprendendo in particolare Ovidio e Lucano nel 26esimo canto abbiamo inoltre l'invettiva contro Firenze infatti Dante dice godi Firenze poiché sei grande che per mare e per terra batti l'ali e per lo inferno tuo nome spande rendendosi conto per l'appunto di quanti fiorentini ci siano nell'inferno Dante continua il suo viaggio e raggiunge l'ottava bolgia quella dei consiglieri fraudolenti e qui nel 26esimo canto incontriamo una fiammella bifurcuta quella di Ulisse e Diomede Ulisse racconta infatti come ha convinto i compagni a superare le colonne d'Ercole e qui abbiamo una terzina notissima considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma perseguire virtute e canoscenza naturalmente per questo consiglio Ulisse e Diomede che hanno sfidato dunque i limiti posti e hanno voluto oltrepassare le colonne d'Ercole vengono condannati come consiglieri di frode Dante incontra nel 27esimo canto un altro consigliere fraudolento guido da Montefeltro originario di Urbino diventato frate francescano però è caduto nel peccato a causa di Papa Bonifacio VIII e dopo la sua morte la sua anima è stata contesa tra San Francesco e un diavolo e ha vinto il demonio come vi dicevo nella nona bolgia ci sono disseminatori di discordie e Dante qui nel 28esimo canto colloca Maometto Maometto è visto da Dante come un dannato mutilato dai diavoli tra il 29esimo e il 30esimo canto troviamo inoltre i falsari nell'ultima bolgia la decima Dante quindi incontra queste vittime di terribili malattie come per esempio la scabbia prima di raggiungere il nono cerchio e il cocito troviamo il pozzo dei giganti siamo nel 31esimo canto e Dante scorge dei giganti immersi fino all'ombelico in un pozzo che si trova al centro delle male bolge i due poeti incontrano vari giganti come Nembrod Fialte Anteo e il gigante Anteo deposita proprio Dante nel nono cerchio dell'inferno il nono cerchio è costituito dal grande lago ghiacciato Coccito in cui sono immersi proprio i traditori coloro che hanno ingannato chi si fida abbiamo qui quattro zone la prima zona Caina che prende il nome da Caino Caino e Abele traditore dei parenti sono immersi questi peccatori nel ghiaccio fino al collo e tengono il viso in basso poi abbiamo Antenora da Antenore colui che secondo il mito tradì Troia i traditori infatti della patria che sono sempre immersi ma con il viso verso l'alto abbiamo poi Tolomea traditori degli ospiti e ricorda qui il tradimento da parte del faraone Tolomeo a Pompeo in Egitto essi giacciono supini e le loro lacrime sono ghiacciate Giudecca da Giude Scariota traditori dei benefattori completamente immersi nel ghiaccio nella seconda zona del lago Cocito Antenora troviamo il conte Ugolino della Gerardesca un altro personaggio famosissimo dell'Inferno un altro canto che a scuola sicuramente leggerete il conte Ugolino sta zannando il capo di un altro dannato l'arcivescovo Ruggeri Ugolino era stato un nobile pisano prima Ghibellino e poi Guelfo ed era stato accusato di tradimento perché ritenuto responsabile del disastro della Meloria una battaglia tra Genova e Pisa Ruggeri l'arcivescovo di Pisa lo aveva rinchiuso nella torre della muda insieme ai figli e ai suoi nipoti dopo alcuni mesi di prigionia vennero lasciati morire di fame e la muda ribattezzata torre della fame si dice appunto che Ugolino abbia divorato i suoi figli in fondo al nono cerchio troviamo Lucifero siamo ormai nel 34esimo canto dell'inferno al centro del lago che è anche il centro della terra sta conficcato sino alla cintola Lucifero il demone ha tre volti e questa è una parodia della Trinità le cui bocche maciullano Bruto e Cassio coloro che tradirono Cesare e Giuda che tradì Cristo Dante e Virgilio scendono lungo il corpo di Lucifero e si aggrappano al manto del mostro attraverso un cunicolo però risalgono ed emergono all'aria aperta sulla spiaggetta del Purgatorio e quindi uscimmo a rivedere le stelle ci vediamo al prossimo video